Oggi è la giornata mondiale dell'amianto, andiamo a Casale Monferrato con Alessia Mari. 28 aprile, giornata mondiale vittime dell'amianto. Avrà questa data la lettera che l'Associazione Familiari delle Vittime di Casale Monferrato ha inviato alla Convenzione di Rotterdam, che fra pochi giorni si riunirà per aggiornare la lista delle sostanze dichiarate nocive nel mondo. Il crisotilo, l'amianto bianco, in questa lista ancora non c'è. Così da Piemonte, ma anche Francia, Belgio, Canada, Stati Uniti, Australia, Peru, Corea arriveranno appelli a bandire un materiale usato ancora nei due terzi del pianeta. I produttori dicono che il lavorato in sicurezza non fa male, ma le rassicurazioni ricordano quelle che hanno scatenato il dramma in Italia dagli anni 50, quando si negava che l'amianto fosse pericoloso e lo si usava più che altrove per costruire case, scuole e ospedali. La mancanza di informazione sulla fibra killer a vent'anni dalla legge che la proibisce in Italia è ancora il pericolo più alto. In molte regioni manca una legge sull'amianto, mancano le discariche. I nostri scarti si mandano con grandi spendi in Germania o si abbandonano abusivamente. 35.000 esiti ancora da bonificare, 32 milioni di tonnellate di amianto da smaltire. Andiamo a rilento. Se continuiamo così non ce ne libereremo fino al 2100. Le malattie d'amianto dati INAIL uccidono ancora più uomini che donne per il 70% al nord dove c'erano i grandi impianti. Quasi 3.000 vittime ogni anno, più di tutte le altre morti sul lavoro, tra asbestosi e tumori polmonari e in mesoteliomi. 230 morti l'anno in Piemonte, 50 solo a Casale Monferrato, tra tutti i cittadini e anche non lavoratori. Il piccolo avremo nel 2025 e quando i casi saliranno si stima 3.500. perché la fibra killer non dimentica e le patologie lente progressive si manifestano anche dopo 40 anni di incubazione.